Cosa fa Vitto? Cosa fate? Vitto, non è Vitto! Ma dimmi ricorda, è d'accordo con Vitto? Sì! Io non mi ricordo! Sì, quando è rivenuto anni fa, lei diceva che strappava i capelli alle persone, la Vitto, vero? Me lo ricordo, Vitto ti sei calmata un po'? Sì! Meme dei tre Spider-Man! Mi piace che mi siete prestati a questa cosa, ma non avete assolutamente idea di cosa si... Via! Vado? Uno, tre, due, uno, go! E la madonna! Bravissimo Spider-Man! Cosa ne pensate? Bravissimo! Sto andando a girare X Factor, questo è il mio look, stranamente anche il mio pigiama. Se chiedete chi è lo stylist che mi veste, so inaspettato perché comunque c'è della ricercatezza. Sono io il mio stylist, ragazzi. Incredibile ma vero. 8 Iscriviti al nostro canale Ciao ragazzi, ho appena finito di vedere i primi episodi della nuova serie I Leoni di Sicilia, che è pazzesca. E fra i personaggi, fra i protagonisti, c'è anche la mia amica Miriam Leone, che ha questi costumi dell'Ottocento incredibili. La serie parla della storia della famiglia Florio, che nella Sicilia dell'Ottocento ha creato un impero imprenditoriale con un piglio rivoluzionario. E la serie è tratta da un libro che è diventato un bestseller, altamente consigliata. Grazie a tutti.